S22 Ultra è arrivato, andiamo a vedere l'unboxing di quello che sa tanto di Galaxy Note. All'interno della confezione non troviamo il caricabatteria, Samsung dallo scorso anno lo ha rimosso abbassando leggermente i prezzi, però come sempre prendendo il telefono su Amazon, il link come sempre in descrizione, arriva in regalo il caricatore da 25W. Questo telefono supporta anche una ricarica velocissima da 45W. A fronte di questo tutti i link di approfondimento sono in descrizione, andremo a vedere anche la recensione, quindi iscriviti al canale, lascia un like a questo video se ti interessa e detto questo quindi iniziamo. Piccolo dettaglio, la colorazione è bianca e l'avete scelta voi tramite un sondaggio direttamente nelle storie. Il link al profilo è in descrizione e di fatto impatta anche sui contenuti che vediamo sul canale. Eccoci dunque davanti alla confezione, caricatore da 25W incluso, ve lo lascio comunque in descrizione, USB-C che carica a 25W ma l'S22 Ultra può essere caricato anche a 45W. Caricatore in quel caso disponibile a metà prezzo, link appunto sotto al video e tra l'altro ricarichiamo molto velocemente la batteria da 5000 mAh. La confezione la conosciamo e è similare a quella dell'anno scorso, nomenclatura del telefono nella parte inferiore. Su un lato il nome appunto Galaxy S22 Ultra, nella parte posteriore non ci sono più le informazioni relative alle caratteristiche del telefono e dalla parte destra troviamo il logo Samsung. Apriamo la confezione come abbiamo visto e snella perché appunto non è presente il caricabatteria. Troviamo subito lo smartphone, nella parte interna nulla e nell'unico slot, l'unica confezione che troviamo aggiuntiva abbiamo la clip per la sim e ovviamente il cavo USB-C USB-C che possiamo utilizzare in fase di prima configurazione oppure rivolgersi al Wi-Fi. Andiamo quindi a rimuovere la pellicola Pronto? Molto bello in questa colorazione bianca è bello anche al tatto, c'è una pellicola preapplicata sullo schermo che andiamo a rimuovere perché è da togliere ecco fatto A questo punto procediamo alla prima accensione Parte l'interfaccia della One UI 4.1 che di fatto ha Android 12 a bordo e possiamo iniziare la nostra configurazione Selezioniamo prima di tutto il paese, come sempre ovviamente siamo in Italia se lo troviamo come opzione in italiano dunque accettiamo i termini e anche i dati diagnostici per miglioramento del software del telefono i servizi Samsung e tutto ci crede ovviamente il settaggio standard e cominciamo a collegarci alla rete Wi-Fi Collegato al mio Fritzbox configuriamo eventualmente il gestore telefonico se abbiamo inserito la sim, cosa che non è stata fatta in questo caso Attendiamo il caricamento, comunque cominciamo a parlare delle caratteristiche tecniche Il comparto specifico del S22 Ultra è quello delle fotocamere che prevedono addirittura 4 fotocamere nella parte posteriore con un sensore da 108 megapixel zoom 10x e 3x teleobiettivo tutti e due da 10 megapixel e da 12 megapixel troviamo la fotocamera ultra wide con il flash LED come sempre video fino in 8K 24 frame 4K 30 e 60 fotogrammi al secondo e possiamo anche fare un super slow motion in HD radio a 960 frame dietro c'è la scritta Samsung in rilievo, molto bella c'era anche di questo tipo su colorazioni specifiche del Note 20 Ultra nella parte frontale la fotocamera è da 40 megapixel il display è un altro fiore all'occhiello di fatto non possiamo configurare un gestore telefonico quindi riavviamo lo smartphone il display è come dicevo è un quad HD esteso come sempre un Dynamic AMOLED 2x con 120Hz di frequenza variabile e la particolarità è la luminosità massima di 1750 nits il telefono è più luminoso in termini di schermo disponibile sul mercato passiamo subito alla funzione di copia app e dati come abbiamo visto in precedenza e posso utilizzare il mio vecchio dispositivo vecchio per così dire quindi aggiornamento e scelgo Galaxy ovviamente per passare tutti i miei dati posso farlo con il cavo che è uscito in dotazione oppure gestire il tutto tramite wireless quindi associo il mio Galaxy Note 20 Ultra su cui devo aprire Smart Switch quindi vado ad aprire Smart Switch eccolo qui e quindi una volta che abbiamo avuto le autorizzazioni lo settiamo e a questo punto i due telefoni si allineano consentiamo la connessione e di fatto comincia il trasferimento piuttosto rapido grazie all'ottima scheda tecnica di entrambi i dispositivi e vedremo se è disponibile poi già nelle schede anche il confronto col Galaxy Note 20 Ultra perché di fatto qui abbiamo su una diagonale praticamente similare se non uguale di 6,8 pollici per completare l'ottica del display anche qui abbiamo a disposizione la S-Pen che andiamo a estrarre per la prima volta migliorata in termini di tempo di latenza quando andiamo a scrivere con le solite funzionalità Smart che troviamo S-Pen che ritornerà anche sui foldable quindi di fatto è un Galaxy S 22 Ultra il top di gamma ma vediamo anche da com'è è fatto da come si presenta che parliamo e lo approfondiremo all'interno della recensione di un Galaxy Note ovvero il terminale che preferisco in assoluto a scansione conclusa possiamo scegliere se trasferire tutti i dati multimediali quindi completamente una copia speculare di fatto oppure solo gli account oppure in modo personalizzato se clicco su personalizzato posso scegliere e vedere effettivamente tutto questo spazio da dove arriva abbiamo 34 giga di applicazioni 4 gigabyte di foto di fatto altri documenti e file e immagini nella scheda SD che posso copiare all'interno dello smartphone sì effettivamente una delle mancanze di questo nuovo modello è che non abbiamo quindi la micro SD che di conseguenza va a gravare sulla memoria interna il telefono è disponibile in centagli da 128, 256 e anche mezzo terabyte se non sbaglio ho anche un terabyte la versione più equilibrata sembra quella da 256 gigabyte che accompagna anche 12 gigabyte tiriamo al posto di 8 a fronte di questo dobbiamo fare una scelta quindi se abbiamo i dati su scheda SD se non ci servono magari evitiamo quindi di fare questo backup nel mio esempio scaricherò tutto comunque ovviamente è soggettivo a fronte di questo posso ovviamente salvare anche gli account quindi faccio una copia e tutti i miei account passano da un telefono all'altro una volta confermata l'operazione scegliamo il nostro motore di ricerca quindi lascio google e a questo punto posso scegliere poi se attivare la protezione con le impronte il segno il pin o una password e ovviamente il riconoscimento del viso cosa che farò successivamente a questo punto posso anche settare poi ok google cosa che posso appunto fare in un secondo momento e di fatto sarà anche possibile accedere all'assente vocale senza sbloccare lo smartphone a fronte di questo viene completato il processo di preparazione e a questo punto dovremmo essere più o meno arrivati alla fine dopo aver completato anche l'inserimento del samsung account possiamo terminare oppure fare esplora galaxy quindi avere a disposizione qualche tutorial su tutte le potenzialità dello smartphone quindi lo sfondo quello che abbiamo in termini di privacy comunque tanti piccoli tutorial sulle funzionalità tra cui anche quelle della one UI 4 comunque da vedere eventualmente se ci può interessare a fronte di questo finisce il setting e siamo pronti a utilizzare il telefono che comunque continua allo stesso tempo a copiare i file dal smartphone precedente personalizzerò al meglio l'interfaccia lo vedremo meglio in fase di recensione per completare la scheda tecnica vado a citare il nuovo processo produttivo del processore di fatto del chipset a disposizione che è l'Exynos 2200 che ha 4 nanometri e il modello disponibile sul nostro mercato di fatto molto bello dal punto di vista estetico bilanci del volume sulla parte destra come siamo abituati ad avere sulla parte sinistra non troviamo elementi particolari e di fatto qui sopra abbiamo un microfono nella parte inferiore possiamo inserire la sim e c'è come abbiamo visto l'S-PEN e l'audio stereo approfondiremo tutte le particolarità di questo smartphone nella recensione completa quindi iscriviti al canale per non perderti il video e lascia un like se questo unboxing ti è piaciuto con il solito primo avvio e il primo settaggio dello smartphone per qualsiasi domanda puoi scrivermi qui sotto nei commenti o direttamente su Instagram di cui trovi il link in descrizione a me non resta che salutarti e noi ci vediamo al prossimo video